Questa è la IFG nell'area industriale di Montalto Fugo, è un'azienda che si occupa di consegne di merci, pacchi e varia corrispondenza. Occupa decine di persone con decine di mezzi che ogni giorno percorrono in lungo e largo le strade calabresi. Ed è qui il nocciolo della questione. Adesso, con gli aumenti di bollette e carburanti, i contratti in essere non sono più convenienti. Un preventivo si basa anche sulle spese. Se naturalmente queste spese, non per colpa dell'azienda, ma forse anche per una gestione internazionale delle risorse del carburante, aumentano del triplo, è chiaro che l'azienda deve rifarsi a quelli che sono gli obbligo contrattuali e non può fare a meno che proseguire anche se verse in grave difficoltà. In pratica oggi qui si rischia di lavorare in perdita. Cioè tutti questi mezzi che state vedendo, anziché uscire per guadagnare, escono a perdere. Il paradosso è che pagano proprio quelle aziende che avevano scelto di acquistare mezzi ecologici. Le imprese più diligenti che già da anni si sono servite di mezzi green, ora pagano paradossalmente il prezzo più alto, perché il metano è partito da 70 centesimi e ora è arrivato quasi a 2,50 euro. Anche in Calabria sono migliaia i lavoratori del settore dei trasporti di persone o merci, i cui costi si ripercuotono poi anche giocoforza sui prezzi delle merci consegnate. Insomma una crisi dei trasporti causa costi salati anche al consumatore finale. Il settore adesso è in agitazione e potrebbe bloccarsi. Solo un giorno di stop e già i supermercati, i negozi avranno gravi difficoltà nella distribuzione di beni e servizi. Quindi si capisce quanto è importante il settore dei trasporti e quanto influisce anche su tutte le filiere produttive. È necessario un intervento immediato da parte delle istituzioni per evitare la catastrofe totale.